benvenuti siamo tornati finalmente con un nuovo rotto di vision one e la squadra sta prendendo però vabbè rotto a città si devo ancora entrare nel mood che è rotto a città comunque la squadra sta prendendo piano piano forma allora rotto a città la squadra sta prendendo forma piano piano ok abbiamo comprato gervinio che però ha tante forma fisica quindi non lo vedrete nella prima partita ma la seconda sicuramente e peres terzino destro lo vedrà la seconda partita anche lui sta prendendo piano piano forma sta squadra diciamo che piano piano si comincia a ragionare perciò l'attacco è quasi fa voliamo prende balutelli lui vorrebbe prendere caille con io vorrei prende balutelli ci dite nei commenti quali dovete prendere i due secondo voi qual è più forte secondo me è meglio balutelli perché cosa di meno è più completo come giocatore molto meglio caillon perché poi lagnare e poi a quel punto si va tutto sul centrocampo e si va a prendere guarim e poi caceres poi ci sarebbe da prendere caceres terzino sinistro non c'è sta niente di che in giro ho visto mente che è niente facciamo 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 la parcia facciamo la partita a squadra sua stiamo più forti noi per una volta sì più che altro non c'è la difesa non ha intesa non è andato salà salà che cazzo fai lo supero guarda che c'è stato quasi cazzo mi è volto vai 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 mammedino tira la botta la troia finisco le tue parole non lo so l'aletto ha fatto il passaggio del brusso della vita oddio oddio conè 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 non è patè tutta la vita conè non è patè cioè il nesso di queste due cose come lo spiegherai che volevo patè a vecchumà no volevo conè a vecchumà nuovo striscione rega voglio con patè al prossimo sputana cifra mentre parli lo so perché sono conè azzato che sono connolizzato comunque voglio che al gamesweek mi portate questo nuovo striscione volevo conè a vecchumà vi voglio vedere dal palco questo striscione mi raccomando volevo scrivetelo bene se no fammi figurare in me eh no era partito oh conè 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 rigore rigore ma mi asso conè 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 fammi io l'ho fissato ancora la palla per sala eh la madonna eh vabbè che corri però a mo stava esagerà a Romulo pensa che ha visto Remo là tira la botta tira la botta eh no eh dammi l'altro rigore mamma mia conè mamma mia mamma mia mi re a zero perchè no perchè no perchè no perchè no perchè no perchè no miglia perchè parte salà raga conè parte salà parte salà ma questo conè come ha prodotto palla mi tira subito che cattinato che cattinato ancora era un tiro si oddio salà oddio salà eeeh no vabbè scherzi scherzi oddio scherzi oddio che cosa avevo fatto continuava di scherzi perchè gli scherzi erano dribbling oh oh marchetti sulle mani per questo marchetti finisce qui come sempre la prima partita la vinciamo dai la perdiamo però adesso entrano tutti titolarissimi eh quindi famo uno squadrone giusto allora vediamo un po' come la seconda squadra questa squadra ecco è forte uno dell'inter se lo potremmo piare per favore uno abbiamo guarin ho capito intanto abbiamo 6 card che costate meno rudiger rudiger mamma mia ma che finta ha fatto rudiger cacca hai teglia da te però ah no 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 hai visto che finta ha fatto rudiger che male che ho pagato sto gioco ma vaffa c***o cioè le cose che io odio sono queste cioè guarda che c***o gervinio gervinio metti in mezzo gioco secondo palo secondo palo secondo palo gioco ma che c***o un cross un po' meglio no eh ok forse è sopra forse è quando risponde allora che da perché no e no si bug de merda no porco che c***o due volte così i gol e vabbè cioè la farà un'azione secondo te è sua perché si sposta guarda ma che sono spastici porco no ma è così raga cioè la seconda partita la temo perde non capisco perché oh che è successo cioè il c***o è quello che aspettavo aspettavo passaggio tuo così si fallo dai 3 a 2 c***o dai che non è impossibile un punto me lo pio proprio volentieri qua giurvigno 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 fallo mamma mia che tiro che merda che c***o che c***o è proprio arrivato di testa prima e vabbè questa è andata così intanto regate la seconda partita è qualcosa di scandaloso a differenza della prima sempre così vabbè fa niente dai 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 siamo alla bellezza di 6 punti ma dobbiamo arrivare a 13 quindi siamo completamente in marcia ci siamo possiamo fa dai e noi vediamo di fare qualche acquisto ci vediamo al prossimo episodio come sempre lasciate un like se vi è piaciuto e forza sempre acci tua bella ciao